ciao a tutti non so chi ha seguito il piccolo video di prima in realtà pensavo di aver trovato la soluzione perché in molti mi dite che mi si vede allo specchio cioè nel senso quando io apro un libro vedete il contrario allora io ho detto fantastico giro il telefono e risolvo invece quando è stato tutto bene quando è arrivato il momento di andare in diretta invece non è andato bene niente katia ciao buongiorno allora oggi mi sono messa in un modo nuovo ho molta aria sopra come si dice in gergo l'ho imparato da poco e però dal momento che oggi ho avuto un po di problemi con la telecamera la lasciamo così poi semmai quando tanto l'importante il contenuto non quanta testa qua no quanta aria qua davanti allora ciao a tutti oggi abbiamo una o la francia oramai è dei nostri sono molto contenta ciao francesca oggi abbiamo una fiaba nuova anche questa a episodi perché effettivamente una era troppo lunga tutta insieme e allora ho deciso c'è anche mimma fantastico c'è anche vitto ormai la vita è il nostro è uno dei nostri appassionati bene sabrina ragazzi oggi siete puntualissime siete tantissime da subito e allora io direi di cominciare subito a farvi vedere l'immagine di oggi allora vediamo un po se così si vede meglio eccoci stefano buongiorno ecco fiorenza l'autrice di questa meravigliosa nuova fiaba i grilli di linate ho voluto farvi vedere la foto non vedevamo l'ora fossero le se non vedevamo l'ora fossero le 16 ciao allora siete tantissimi sono molto contenta comincio subito comincio subito a raccontarvi questa fiaba che è bellissima allora la vado a prendere i grilli di linate di fiorenza pistocchi isabella conoscete l'aeroporto di linate io sì da quando il mio papà si è trasferito a roma per lavoro e mamma ha preferito rimanere a milano ci vengo spesso con lei per prendere l'aereo e andare a trovarlo questa però è la prima volta che mi capita di viaggiare da sola mamma ha un impegno a cui non può proprio mancare così ha chiesto per me il volo non accompagnato non sapevo cosa fosse ma quando mamma mi ha portata in aeroporto ho scoperto che ad aspettarmi c'era una hostess una ragazza carina e giovane con la divisa verde smeraldo ciao isabella io mi chiamo aurora sei affidata a me da ora fino a quando fino a quando arriveremo al terminal di roma verrà a prenderti il tuo papà ti starò vicina ci faremo compagnia parleremo e giocheremo insieme se ti va sei pronta certo che sono pronta ho pensato e le ho sorriso mentre le davo la mano mamma mi ha stampato un bacio sulla fronte ed è subito corsa via dicendo che era in ritardo è sempre in ritardo a volte mi fa arrivare in ritardo a scuola e mi tocca aspettarla anche all'uscita ma dall'anno prossimo in quarta andrò da sola me l'ha promesso scommetto che arriverò in orario con aurora mi sono avviata verso la sala d'aspetto ha pensato lei al bagaglio al biglietto e poco dopo hanno chiamato il nostro volo siamo salite insieme sul pulmino che porta i passeggeri all'aereo e poi su per la scaletta fino a raggiungere i nostri posti vicino al finestrino aurora mi allaccia la cintura è arrivato il momento di prepararsi al decollo l'aereo trema tutto mentre i motori producono un rumore sempre più forte ci muoviamo sulla pista accelera stiamo andando fortissimo poi con uno strattone la punta sale mi sento spingere sullo schienale stringo forte la mano di aurora non ho paura e ci sono abituata ma è sempre emozionante staccarsi da terra ecco ci stiamo alzando sento i motori che sforzano per portarci sempre più su che bello stare accanto al finestrino mi piace vedere il mondo da qui anche a me piace tantissimo risponde aurora mi piace volare è per questo che ho deciso di fare la hostess guardo giù e milano sembra già un paese di bambole con le case piccole piccole andiamo sempre più in alto fino a raggiungere qualche nuvola sparsa sto in silenzio a guardare il mondo che scivola sotto di noi il tempo passa sembra quasi di stare fermi ma papà mi ha spiegato che l'aereo va molto 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 veloce anche aurora seduta vicino a me non dice nulla la guardo e mi accorgo che sia addormentata ma non doveva farmi compagnia ma lasciamola riposare improvvisamente sento una voce debole debole che proviene da sotto la poltrona ehi mi aiuti mi fai salire vicino a te voglio vedere anch'io dal finestrino ma chi dice queste cose slaccio la cintura di sicurezza e mi abbasso per scoprire di che cosa si tratta sotto il sedile c'è un animaletto di un bel verde luccicante con delle zampe sei zampe mi pare molto molto lunghe anche delle antenne ho appena studiato le caratteristiche degli esseri viventi a scuola è sicuramente un insetto di solito gli insetti non mi piacciono ma questo in fondo è carino e poi parla come me chi sei gli chiedo sono un grillo di linate sono zampa che risuona nel buio ma puoi chiamarmi zampa un grillo di linate e parli di grilli parlanti conoscevo soltanto quello di pinocchio non sei tu vero gli chiedo un po preoccupata veramente questo pino non lo conosco mi risponde non importa che cosa fai qui zampa volo certo volo anch'io su questo aereo ma tu non dovresti volare fuori dall'aereo non posso non ho le ali noi crilli di linate non le abbiamo mi metti vicino a te dalla parte del finestrino lo prendo in mano e lo poso delicatamente nello spazio del finestrino raccontami la tua storia gli dico mi chiamo zampa che risuona nel buio ma tutti mi chiamano semplicemente zampa sono un grillo saggio della tribù di grigli dell'aeroporto di linate sono anche il consigliere della regina zampa di smeraldo che governa da molti anni il mio popolo la tribù si rivolge spesso a me perché sto guarire ai malanni più comuni dei grilli come l'indigestione di semi di trifoglio il prurito di primavera la puntura di vespa e so medicare le ferite dovute alle lotte con le libellule o le cavallette per questo motivo sono considerato saggio come tutti i grilli mi nascondo tra le erbe dei prati per procurarmi cibo il mio popolo vive da generazioni in un enorme campo piatto la nostra riserva di caccia dove prosperano le erbe che danno riparo a mosche e zanzare il nostro cibo preferito gli aerei hanno la capacità di volare mentre noi no contrariamente ad altri grilli questo ci fa provare invidia e ammirazione per tutti gli esseri che possono alzarsi nel cielo e guardare il mondo dall'alto alcuni di noi in passato hanno chiesto alla lodola al merlo e alla cornacchia di portarli in alto nel becco o stretti nelle zampe per provare l'emozione del volo ma ben presto si sono ritrovati nello stomaco di quegli uccelli ormai la nostra unica speranza sono gli aerei vorremmo tanto poter viaggiare su un aereo a luna piena ci riuniamo in consiglio alla presenza della regina per studiare come fare come ieri notte la sala del consiglio era piena di grilli tutti erano impazienti di sentire che cosa aveva deciso la nostra regina silenzio entra la regina zampa di smeraldo che il popolo le renda omaggio la moltitudine di grilli in attesa ha smesso di chiacchierare tutti si sono inchinati e hanno cominciato a sfregare le zampe posteriori contro l'addome producendo un saluto la regina si è seduta sul trono di muschio proprio al centro della sala mio popolo grilli di linate sedete e ascoltate le parole del saggio zampa che vi suona nel buio a cui ho affidato una missione importante ha detto la regina allora ho parlato io figlioli è giunto il momento di tentare un'impresa difficile salire su un aereo e provare a volare mi sono offerto volontario se avrò successo tutto il popolo potrà volare stamattina sono salito sulla ruota enorme di questo aereo attraverso un buco dal quale escono dei cavi sono entrato nella sua pancia grandissima non mi sono accontentato di rimanere lì no no ho seguito la luce che proveniva dall'alto e mi sono arrampicato faticosamente su tubi e cavi sono sbucato sotto una poltrona in quello che credo sia al posto dove stanno i passeggeri ho sentito delle voci ed eccomi qui isabella mi ha permesso di provare una grande grande emozione vedere il mondo come non l'ho mai visto dall'alto osservo le montagne e le colline calinate non ci sono ecco laggiù finalmente scintilla al mare è blu e verde che meraviglia è una giornata bellissima non solo perché sto facendo ciò che ho sempre desiderato ma anche perché il sole splende e illumina tutto sotto di noi certo se anche avessi le ali non volerei mai a questa altezza vedo qualche nave in mare da qui sono piccolissime interessante e adesso quando aurora si sveglia cosa facciamo chiede Isabella ha una bella divisa color verde come me potrei sbarcare dall'aereo stando sulla sua giacca ma che cosa farai nell'aeroporto di roma non vuoi tornare a casa sì certo devo aspettare un volo che mi riporti indietro sai leggere i tabelloni che annunciano i voli mi chiede Isabella con un'espressione dubbiosa so fare tante cose ma quello proprio no allora nasconditi nel mio zainetto io a roma ci sto solo un paio di giorni e poi ritorno a milano puoi venire con me ti porto a casa del mio papà e poi dopo domani ripartiamo insieme la proposta mi trova d'accordo così mi infilo in una tasca esterna del suo zainetto allora abbiamo letto i primi due capitoli abbiamo ancora tante cose da raccontare di questo grillo meraviglioso e Isabella che è una bambina dolcissima scopriremo tante altre cose intanto mi dovreste scrivere se vi è piaciuta io saluto Vincenzo che lo vedo Andrea Domenico che non mi ricordo di aver mai visto quindi sono felicissima ciao ben arrivato la mia Isabella che è qui poi aspetta Federica Novelli va appena finita fede però aspetta perché ce ne sono delle altre Vanessa ciao Monica ciao Francesco ciao Emanuele Federico ma quanti siete Nella ciao a tutti Massimo ciao 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 allora siamo arrivati al momento di Jacopo Perego perché sapete che qui non ci si può allontanare dal video senza avere visto o meglio aver ascoltato qualche favola del mio adorato Jacopo Perego che spero prima o poi di conoscere dal vivo fantastico il grillo con la R Mosha bene allora mi fa piacere quando l'autrice mi fa i complimenti in diretta sono contenta perché vuol dire che se me lo dice lei Nicola buongiorno ragazzi siete tantissimi oggi e allora vi leggerò qualche favola di Jacopo di Jacopo Perego allora scusate ma ho fatto le foto velocemente quindi non ho il titolo di due delle fiabe che vi racconterò allora quando nel reame si sparse la voce che la principessa senza re era alla ricerca di un marito per sé al portone del suo grigio castello bussarono in tre il primo era un principe azzurro il secondo era un principe azzurrissimo il terzo invece non era né bellissimo né principe e di azzurro non aveva proprio niente tranne un barattolo di vernice con cui colorò tutto da sé il grigio castello della principessa senza re essa scelse il terzo pretendente perché lei non voleva sposare la persona più bella del mondo ma quella capace di rendere il suo mondo un posto più bello ciao buongiorno mimma lo scopo di una penna c'era una volta un mondo che non era abitato da persone ma da penne di ogni colore ce l'erano di nere di rosse di verdi e di blu qualcuna aveva meno inchiostro e qualcun'altra di più una in particolare sapeva scrivere storie così piene d'amore che per tutta la vita restavano nel cuore di ogni lettore un giorno però dopo che l'inchiostro terminò quella penna il mondo per sempre lasciò le sue sorelle piansero l'amica deceduta ma essa per consolarle le aveva lasciato quest'ultima battuta non piangete una penna che se ne va dopo che ha finito l'inchiostro e che ha detto tutto quello che doveva dire piangete la penna che si secca senza che abbia scritto qualcosa che il mondo possa bellire il signor codardo e il signor coraggio c'era una volta una porta di una casa a cui tutti i giorni la paura bussava appena il signor codardo guardava dello spioncino subito scappava e si rinchiudeva nello scapuzzino ma si può sapere chi è che non ti lascia mai in pace? gli chiese un giorno il coraggio è la paura! rispose il signor codardo l'indomani i due andarono ad aprire la porta a braccetto ma non c'era proprio nessuno né sotto al porticato tantomeno nel vialetto il flautista opportunista il flautista opportunista faceva parte di un'orchestra ma invece di imitare i compagni che li suonavano accanto lui muoveva le dita soltanto lo spartito non conosceva e nessuna nota emetteva tanto c'era qualcun altro che al posto suo lo faceva un brutto giorno però ogni membro dell'orchestra opportunista diventò e come lui si comportò quel giorno quando il sipario si aprì al posto di tanti do, re e mi c'erano solo delle mani che si muovevano ma che nessun suono producevano allora il direttore musicale spezzò la bacchetta e disse con ira funesta chi fa parte di un'orchestra deve fare la propria parte altrimenti produrremo silenzio anziché arte l'ultima è aspetta che posso giugin perché intanto ragazzi oggi mi sono messa male ma chi ha seguito dall'inizio sa che cos'è successo domani mi rimetto bene il grande pensatore aveva la testa piena di pensieri stupendi l'ultimo dittatore però non li sopportava neanche un po' perciò alla ghigliottina lo chiamò e il boia il capo li tagliò fu così che i pensieri stupendi fu così che i pensieri stupendi uscirono dalla testa del grande pensatore ed entrarono in quella di ogni spettatore mozzate il capo a tutti quanti ordinò l'ultimo dittatore strillando come uno scimpanse ma il popolo replicò questa volta sulla ghigliottina ci finisci te non usci neanche un pensiero dalla sua mente e questo fondamentalmente era il motivo per cui l'ultimo dittatore aveva ucciso il grande pensatore perché le idee e l'intelligenza fanno paura a chi ne è senza bene direi che per oggi ci siamo raccontate tutto raccontate raccontati io vi ringrazio perché eravate moltissimi vi ricordo due cose il primo appuntamento di questa sera anzi il secondo appuntamento di questa sera però su instagram alle 18.30 c'è una diretta speciale con Sara Rattaro dove racconteremo qualche cosa di quattro dei suoi libri niente come te l'amore addosso un uso qualunque di te e non me lo ricordo il quarto oh mamma mia vabbè sono quattro e hanno una cosa in comune ragazzi non mi viene in mente mi auto elimino dall'impasse allora alle 18.30 su instagram sulla pagina di Sara Rattaro invece noi domani ci vediamo alle 16 alla stessa ora di sempre con il continuo dei grilli che spero vi siano piaciuti a me sono piaciuti moltissimo ho adorato Isabella e il suo grillo in men che non si dica io vi do un bacio vi ringrazio e ci vediamo domani grazie a tutti grazie a tutti